Ciao a tutti, questo è il canale YouTube del Jolly Roger, siamo qui con Filippo Galletti, fresco della sua top 64 all'Europeo di Berlino. Parlaci un po' del tuo torneo e poi ci farai vedere la lista. Allora, ciao a tutti, allora ho fatto 8-1-2, sono entrato in top come 8 vinte in pareggio di sconfitte, sono entrato in top come 53esimo e ho perso in 64 contro Alessio Giordani, un italiano, mi giocava Pepe con Ariadne, è normale, e è buona. Io ho scelto di giocare Cosmo de Mise perché mi consente sostanzialmente di spegnere il cervello e di non dover pensare a nulla e quindi... Elmette! Elmette, esatto, metti l'elmo e vai, va bene. Quindi la lista è abbastanza standard, i mostri sono standardissimi, 3 Destroyer, 3 Tinkan, 3 Slip Rider, che all'inizio giocavo, che all'inizio pochi partiti che ho fatto ho giocato a 2x, ma 3, non so neanche, come è. The Farm Girl, Strohman, Forerunner e Monolady. Monolady perché sostanzialmente è una carta abbastanza brutta da pescare, non è un pilota in realtà perché non puoi evocarlo normale, non è una nave. Insomma, una monopera va bene perché tanto poi la recuperi dal cimitero che va a recall e la porti quando ti serve. Poi Magia, vabbè, la carta Elmo, i 3 Town, due Teleport, le due Duality, sono state molto molto forti. Poi il Reparto, poi la trappola, vabbè, sono 16 trappole, il Reparto Solenni, standardissimo. Vabbè, 3 per la carta della trappola più forte, Cosmojo. Poi 5 Call, e poi due Essenze. C'è di giocare Essenza perché era, temevo molto Monarca. E poi è forte anche contro Pepe, senza seppare, specie se quando parti per primo, anche contro la Temazia, è notato anche contro Cosmo, può essere molto risolutivo e forte. Poi c'è un vinto anche contro Drago Bianco, che vabbè. Più uno. Sì, non sapeva neanche un effetto, però è partito 74, quindi, ok, forte. Poi l'extra. Vabbè, l'extra è stato... L'extra è, in realtà, potrei vedere, potrei far vedere stanziante quelle che ho calato e basta. Cioè, stanziante ho usato solo, oro due, lui una volta, e lui una volta, ah sì. E l'Omega che ho calato contro, contro un Burning Capis. Vabbè, comunque, a parte queste, che devo dare tante spiegazioni, a parte per Omega, che ho giocato, perché, vabbè, gioco Winter Cherries Decide. L'ho giocata perché temevo di prendere, ma temevo di prendere Syncro Fusionist. Cioè, mazza lì, che vabbè, metto giù Omega, 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 Trifula, 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 così facevo Winter Cherries su Omega e vincevo. Poi, circostanza specifica, è stato utile, perché contro il Burning Capis che ho preso al primo turno delle due, li avevo già fatto Winter Cherries su Dante. E poi, a un certo punto della partita, avevo in mano, avevo il capo Sleep Rider e Winter Cherries in mano, ho fatto Omega con, ho fatto Omega con loro due, ho vinto perché ho rimesso Dark Destroyer al cimitero, ho fatto Call. È stato, è stato abbastanza casuale, ma servito allo scopo. Poi, vabbè, le altre sono secondo Infinity, che, vabbè, è facile rifarlo perché può fare troppo probabilmente Call su Nova e poi con Infinity. Volkazà, Uro Duren, Dal Gaia, Grand Pulse, 47, Lady Aire, Dante, sempre più Winter Cherries, e Giga Briant e pure Beige. Poi, infine, la side. Sai, vabbè, tre Twin Twister, che quando parti secondo sono fondamentali, anche contro Burning Abyss perché se, anche se Burning Abyss in genere gioca solo spada o poco altro, se vai secondo e ti prendi spada su Tinkan è comunque un problema assurdo, Tinkan deve risolvere. E poi Twin Twister è forte perché ti svuota la mano per Demise, quindi è davvero un'ottima carta. Poi, vabbè, tre Deflector contro Monarca, ovviamente. Poi, tre Winter Cherries contro, vabbè, contro ovviamente Burning Abyss. E poi tutto il resto, sempre contro Burning Abyss principalmente. Questo perché Burning Abyss era il match-up peggiore, e quindi era match-up peggiore e quindi sostanzialmente ci eravamo resi conto che solo Winter Cherries non bastava. Allora abbiamo scelto di mettere queste 9 in trap, sacrificando Demise, però è stata la scelta giusta perché secondo Day ho preso due Burning Abyss, ho vinto per delle carte che di base non avrei giocato, come Max C, Fren C. e quindi è stata un'ottima scelta. Poi Max C è forte, vabbè, ovviamente anche contro Cosmo Combo, Pepe, mazzi della Cippa, eccetera, eccetera. E quindi buona. Del mazzo non cambierei nulla, è abbastanza normale. Ma bene, tutto qua. Bene, grazie Filippo. Prego Tommaso. Ci vedremo alla prossima Deck Profile. E Only Jolly.